Allora, dal momento che Linda non è venuta, non posso fare il bambino di Linda, però c'è una canzone dedicata al gruppo alcolico. La scuola riaprea Un, due, speciale squadronche Il staffer finisce, arriva a settembre, la meracchi incendere dal via fedele La scuola riaprea, i formi soffici, i gasci sono i param costituirsi F经rii la st intele Ma c'è chi viene a lo vede 1, 2, 3, 4, 20, no, si vengono i casi Ma non faccio le tagliate Non lo va male, Dio non ora Ma ne va di raggiungere la mano Che mi cerca una scusa Ma la mia è sempre più assuta Cosa del sole non significa un cazzo Ma almeno l'altro c'è un partimento Ma non lo sa l'ora L'anario mi crede Ma c'è chi viene a lo vede 1, 2, 3, 4, 20, no, si vengono i casi Hanno passe da cagnotti Il mondo va male di ora e ora Ma ne va di raggiungere la scusa Ma la mia è sempre più assuta Cosa del sole non significa un cazzo Ma è vero, ragazzi, io faccio il pazzo